Sì, lento, e poi chiudere la pompaia e poi chiudere. Sì, la racchetta fa così, ma sai perché? Perché lo fai così veloce e non riesci a chiudere. Perché guarda, se lo faccio così lento, vedi, se tu lasci la racchetta, non solo la va qua, capisci? E questo è perché fate troppo il tuo movimento veloce. Allora, vedi, se tu trovi equilibrio, lanci un morbido, lascia andare, questo ti basta. Proprio questo, però fate troppo veloce. E allora non c'è il corpo, no? Perché anche la prima fase, vedi, la prima fase è questa. Però, lei fa come vuole finire prima di tirare il servizio, ne so, io esagero, no? invece, però devi tutto con calma e come il colpo, vedi, qua calma, lascia con calma e chiudi. Capisci? È proprio questa coordinazione che vi mando. Perché, vedi, tu per esempio lo fai così, in genere, adesso è un po' meno, ma tu arrivi così e... Capisci? Adesso io esagero un po'. Però, sì, tu lo devi trovare lento su e poi avanti. devi essere più scioso, più muoto. Ecco, siamo qui. Così cominci il piano e questo. E puoi trovare la distanza, no? anche qua bisogna trovare la distanza e accompagnare perché il problema è che io voglio dare lì la patta la racchetta dove devo andare? guarda ma come va là vedi? voglio dare una patta la punta dove va? là non ti deve scappare la punta e guarda è come quello fa il diritto vuoi fare là la punta deve andare la punta deve andare questo che ti dà? il servizio di dare la fosse vuol dire topspin leggera ad uscire la punta va là vedi? voglio far uscire di più guarda questo vedi? sono un po' più morbido sai dovete fare un po' più morbido questa la racchetta deve chiudere per solo lasciate lavorare la racchetta la racchetta deve chiudere per solo bene bene meglio meglio vuol dire per solo ciao ciao Grazie.